Ciao, sono stato a suonare ultimamente in una rassegna molto bella dal titolo Move the Museum a Roma e col mio trio insieme a Pietro Ciancaglini e Andrea Nunzi, tra l'altro fra poco uscirà anche il disco comunque al di là di questo è successa una cosa strana che mi ha fatto anche un po' riflettere mentre montavo le ance, cercavo altre cose, il collarino, la custodia eccetera è scappata fuori questa fascetta di pelle della Van Doren che non usavo da non so quanti anni e allora stamattina ho provato a rimetterla e è partita di nuovo la paranoia della fascetta ideale io solitamente utilizzo la François Louis Pure Brass però ho provato pure questa allora ho deciso di fare un video, un blindfold test, un video in cui io suonerò tutte e due queste fascette queste legature però non vedrete quella che sto utilizzando in quel momento e potete lasciare un commento col vostro settaggio che preferite, le differenze che sentite penso possa essere anche utile così come discussione fra sassofonisti c'è chi dice che il materiale conta, chi dice che non conta, chi dice che la fascetta influenza il suono chi dice che influenza solamente la risposta del lancio insomma sono domande cosmiche a cui neanche un guru ha la sua risposta la cosa importante poi è che utilizziamo qualcosa che ci fa sentire bene suonando però comunque è interessante ascoltare queste differenze farò due clip, la prima in cui suonerò una scala di Do diminuito dal Do grave al Do sovracuto è chiaro che esistono note superiori e anche note inferiori però grosso modo abbracciamo quasi tutto il range dello strumento e quindi sentiremo le due fascette nella stessa situazione musicale nella seconda invece suonerò uno standard, suonerò un po' quello che voglio così sentiremo le due fascette invece in un contesto così più generico un po' quello che voglio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.